Nome. GoPro Studio. Blackmagic da Vinci Resolve. Sei in grado di editare video GoPro? Certo, sono stato creato apposta. Sì, anche. Quanto costi? Sono gratuito. Nella mia versione basica, che comunque è completissima, sono gratuito. Su quali sistemi operativi lavori? Windows e Mac. Su Mac, su Windows e su Linux. Lavori anche clip di altre videocamere, smartphone e droni? Sì, non proprio tutte. Certamente. Sì. Sei in grado di gestire i file HEVC della GoPro Hero 6? Eh, no. No, queste, queste proprio no. Sì, assolutamente. HEVC e codec H265. Hai un waveform? Eh, no, non ce l'ho. Sì, ho un waveform e una parte dedicata interamente all'audio. Permette di fare color correction? Sì, nello step 2 è possibile fare bilanciamento del bianco, applicare qualche filtro e anche fare qualche correzione colore manuale. Sì, anzi, sono specializzato nella correzione colore. Nella seconda tab della schermata principale ci sono un sacco di tool avanzati per ogni tipo di personalizzazione e post-produzione. È possibile anche l'utilizzo di LUT? No, 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 no. Assolutamente sì. Potete scaricarle anche da terze parti ed eventualmente crearvele autonomamente. Permetti la lavorazione dell'audio? Certo, puoi inserire ben due tracce sulla mia timeline. Intendevo di far post-produzione audio. In che senso? Sì, nell'apposita tab Fairlight. Tra l'altro metto a disposizione messaggio evoluta con composizioni complesse multiformato e un'automazione completa con parametri e plugin automatizzati. Puoi lavorare i file RAW della GoPro Hero 6? No, no. Sì, certamente, file RAW e tanti altri formati. Praticamente tutti quelli disponibili in tutte le telecamere presenti sul mercato. Di qualcosa all'altro? Dai, sono un po' vecchiotto ma tengo ancora botta. Ci vediamo alla prossima intervista allora. Grazie a tutti.